Arrivando qua sembra di viaggiare in un quadro, in un dipinto di Van Gogh. Qui ci troviamo alle miniere di Bauxite che oggi riapriamo, il cui rosso trasforma questo paesaggio in un paesaggio marziano, surreale. Ci troviamo nella zona a nord del parco, il parco dell'Altamurgia che quest'anno compie 20 anni e abbiamo deciso oggi di riaprire questo scrigno di biodiversità che un tempo era un importante giacimento di Bauxite, poi di Smesso è oggi invece una delle risorse più importanti di questo parco dal punto di vista naturalistico, geologico, perché ricordiamo che le miniere sono un geosito di valenza internazionale e anche paesaggistico. Gli interventi che ci sono stati in questi due anni di recupero degli habitat hanno tolto 11 tonnellate di rifiuti abbandonate nella miniera grande, recuperato alcuni habitat, quali gli stagni temporanei e prati aridi mediterranei, habitat prioritari per questo parco, realizzato un percorso didattico, un'area didattica con due punti panoramici per poter vedere le cave e lungo questo percorso didattico attraverso i pannelli raccontiamo la storia del luogo, del paesaggio, della flora e della fauna. Perché oggi? Oggi perché è la giornata mondiale dell'ambiente e quindi quale migliore occasione per poter riaprire queste miniere.